Tutti gli amici sono qua, mi sono stufato adesso. La verità è quella là, due sindiche. Di lì sono venuti, di San Buono 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 sono venuti, di Cielo e di Soltrini sono venuti. Ma ti vuoi dire quando sono venuti? Ma lasciamo stare. Non se ne frega per niente di noi, lo dico io. Siamo pienamente d'accordo con te, l'assenza di questa situazione forse hanno avuto a noi. Però no, cioè io la speranza, perché ha 50 anni, moglie e marito qua dentro, cioè a luglio mi finisce la mobilità, ma faccio Natale con questa speranza. Io vorrei avere la speranza, ma è finita, è finita. Non ci credo, non ci posso, credo, con tutto quello che è stato e che è oggi. Oggi io non vedo, non vedo. Io l'unica cosa che le posso dire, signora, è che io ho tutto l'impegno a questo punto diretto. Cioè, una cosa è così, poi che altri facciano altre cose. Vabbè, io me la seguo di persona, proprio personalmente. Queste imprese, se devo andare a una loro terra di origine, vado a una loro terra di origine. Lavoriamo anche con le amministrazioni locali, con tutti quanti. Questo è il massimo che si possa fare. Dopodiché, sai qual è il problema? Che noi ormai di imprese che investiamo in Italia, non ce ne sono molte. Quelle che ci sono ce le contendiamo, perché i problemi stanno con la regione, ce le contendiamo tra le regioni. Allora noi qui dobbiamo mettere in condizione chi viene di essere agevolato a venire qui piuttosto che chi viene da parte. Questo lo possiamo fare, intanto perché ci sta uno stabilimento che è una meraviglia. Ci sono dei lavoratori serissimi, pronti a lavorare. Allora c'è qualcosa già, questo mi sta dicendo che c'è qualcosa già. E allora puoi lavorarci di seguito. Però fatici lavorare con il sindaco. Fatici lavorare, fatici lavorare. Io capisco che il buon lavoro è il buon effetto.